I centri al di sotto dei 15.000 abitanti hanno registrato l'avanzata delle liste civiche trainate dai partiti di centro-sinistra, non senza qualche eccezione. A Turi il candidato sindaco Coppia ha spazzato via il centro-destra che ha governato nelle ultime legislature, mandando in soffitta anche la gestione commissariale. Stessa situazione a Celamare, dove Michele De Santis ha raccolto l'eredità del sindaco uscente Michele Laporta. A bitrito cambio di colore dell'amministrazione, il centro-destra passa il testimone al centro-sinistra, alla guida della giunta ci sarà Giuseppe Giulitto, tesoriere del PD provinciale che ha superato il sindaco uscente Francesco Siciliani. A Cassano delle Murge è successo al fotofinish del democratico Lionetti contro Maria Pia Di Medio, ex PDellina. Un risultato che ha fatto non poco clamore nella cittadina feudo del capogruppo regionale di Forza Italia Ignazio Zullo. A Poggiorsini, un medico iscritto al PD, Michele Armienti, ha avuto la meglio su Domenico Picerno. Toritto e Binetto sono gli unici piccoli comuni dove si registra il successo del centro-destra. Gian Battista Fasano e Del Zotto, i rispettivi primi cittadini eletti. Gian Battista Fasano e Del Zotto